Io sono Matteo Berto e nell'arco di questo nuovo episodio andremo assieme a trattare il contenuto del mio kit per cercare i minerali grezzi italiani premium. Infatti all'interno di questo sacchetto troverete tutto il necessario che vi permetterà di cercare, di trovare, di collezionare e anche di monetizzare i vostri minerali grezzi che troverete lungo i fiumi italiani. Ci troviamo lungo questo nuovo greto il quale ho già compreso nelle scorse prospezioni che è gemmifero. Ed è proprio questo l'obiettivo di questo mio kit per stacciare all'interno di questo contesto le ghiaie di maggior pregio, valore e anche di conseguenza quelle che vale la pena collezionare. Quindi in mezzo a queste ghiaie spostando i ciottoli è possibile qua là intravedere dei ciottolini un po' più belli per il colore e per la trasparenza. Questi sono quelli più di valore. Nello scorso episodio a cui vi rimando abbiamo assieme discusso che cosa contiene il kit base, il kit standard per quanto riguarda la setacciatura. Ho all'interno inserito infatti un setaccio in bambù proveniente da Sri Lanka. Nel momento in cui voi aveste perso quel video mi raccomando di andarlo a riprendere perché vi spiego che cosa consiste il kit standard. Oggi invece tratteremo il kit premium. Andando quindi da boxare assieme il contenuto di questo sacchetto viene anzitutto il setaccio il quale presenta una griglia molto fine e questo setaccio è stato prodotto nel mio laboratorio alla moda americana statunitense. Infatti dovete pensare che all'interno di questo gretto alle mie spalle si trovano potenzialmente delle gemme alluvionali di valore. Ma non è facile individuarle anche se queste sono effettivamente diffuse. Potrebbe essercele magari solo una di valore tra migliaia. Per separare quella che vi interessa da tutte le altre è necessario un setaccio. E in questo caso specifico il setaccio che ho ideato segue la moda statunitense. In buona sostanza si tratta di un setaccio quadrato con una rete molto fine il quale vi permette di distinguere facilmente le gemme, quelle più colorate e trasparenti dalle altre le quali sono semplicemente scarto. Rispetto al kit base di cui rimane la stessa borsa, all'interno invece di questo pacchetto premium ho anche correlato, ragazzi ascoltatemi bene, un videocorso di ben dieci ore registrate riguardo questi fantastici argomenti in cui assieme andremo ad approfondire il come si cerca un leggeme in Italia, dove conviene cercarle con i vari fiumi di riferimento e i ben sette minerali e rocce di maggior valore che finora ho trovato all'interno delle mie ricerche. Questo e molto altro assieme a come collezionare le gemme, come riconoscerle, come identificarle e come dare un valore e soprattutto come e dove conviene venderle per monetizzare in maniera tale da permettere anche a voi in futuro magari di farvi un secondo lavoro, magari un altro andamento oppure pagare alcune attrezzature come quelle che ho in laboratorio per tagliare le gemme. Capite che tutti questi argomenti assieme a ben tre video bonus per quanto riguarda delle interviste dei professionisti di settore sono inseriti all'interno del videocorso, ma facciamo subito un riassunto quindi di cosa contiene questo pacchetto premium. All'interno del pacchetto premium riceverete a casa una borsa, al cui interno è presente il setaccio alla moda americana, che io ho chiamato setaccio prospector, il quale vi permetterà in poco tempo di discernere le gemme, quelle più di valore da quelle invece da scartare. Inoltre all'interno di questo comodo sacchetto, il quale si può utilizzare come anche uno zaino, una sacca tracolla, è presente molta altra attrezzatura e molti altri strumentini. Innanzitutto all'interno ho inserito due brochure, le quali vi permetteranno, grazie di codice sconto all'interno, di ottenere le vostre escursioni personalizzate per quanto riguarda ricerca con questi fantastici setacci di persona, con il sottoscritto in cui vi insegnerò tantissimi altri trucchetti oltre al videocorso, e inoltre anche un taglio di una gemma su richiesta di nuovo con un codice sconto. Quindi all'interno di questo kit otterrete il setaccio, due brochure, ma non è ancora finita qui, perché all'interno vi sarà un fantastico di nuovo crystal bag premium, con all'interno dei cristalli da setacciare già a casa, uscirà poi un video in futuro in merito, in cui senza dover andare al fiume come oggi vi mostrerò, già entro in una bacinella con questo kit potrete ottenere e collezionare le vostre prime gemme grezze luvionali italiane. Infatti all'interno di questo sacchetto ho messo dei minerali i quali sarà vostro compito ricercarli. Ma non vi preoccupate perché ci sarà anche un piccolo libretto omaggio per coloro i quali mi scriveranno e mi chiederanno informazioni riguardo questo kit alla mia mail, la trovate qua sotto in descrizione e all'interno di questo libretto vi descriverò minerale per minerale che cosa potrete trovare, così che per confronto riuscirete a collezionare il vostro primo minerale grezzo italiano. Torniamo noi perché non è ancora finito, infatti all'interno di questa comoda borsa non vi è solo setaccio, non vi è solo sacchetto con l'interno dei minerali, ma ricordatevi che ci sono anche tutte le varie istruzioni per usare setaccio scritte sopra il sacchetto, bensì vi è una pinzetta premium, la quale è molto molto comoda all'interno di questo contesto e un botticino in cui interno, in questo momento, ci sono già dei minerali, ma voi lo otterrete vuoto perché i minerali a collezionare sono all'interno di quel sacchetto e li collezionerete e troverete grazie a questo setaccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando parliamo di gemme grezze lubionali parliamo di un ambito di ricerca molto interessante qui in Italia. Infatti ogni fiume può contenere al proprio interno, diffuso tra le ghiaie, dei ciottoli, delle ghiaie stesse di valore, da pochi euro a decine di euro e una volta trasformate in gemme potrebbero varre le nette due a centinaia. E all'interno del mio canale vado ad illustrarvi passo a passo come e dove cercare queste gemme. Tutto questo è assunto all'interno del mio videocorso dedicato proprio a questo argomento. Qui vi rimando noi in cui volesse acquistare questo pacchetto premium. Abbiamo quindi eseguito l'unboxing, abbiamo quindi visto passo a passo come si utilizza questa attrezzatura. Vedremo in futuro dei tutorial ancora più specifici, ma io intanto vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ah e se volete ulteriori informazioni riguardo questo kit scrivetemi per mail oppure andate a visitare il mio sito internet.